Il 46% dei cittadini lombardi si è indebitato nel 2020, l'anno della pandemia. Un dato che emerge dal CRIF e che fotografa una nuova realtà preoccupante. Le conseguenze economiche derivanti dalle restrizioni imposte per il contrasto alla diffusione del contagio hanno costretto quasi la metà della popolazione lombarda a chiedere prestiti e il tasso di usura oggi è pari al 9,6%. Come Codacons analizziamo delle situazioni che sono reali e contingenti. Le situazioni reali e contingenti parlano di un indebitamento del 46% da parte dei cittadini lombardi nell'ultimo anno di difficoltà significative nell'ambito proprio della gestione della quotidianità. Non parliamo delle piccole o medie aziende, non parliamo delle partite IVA, dei ristoratori, dei bar che hanno una situazione economica che è drammatica. Non si ha la percezione, a nostro avviso, che un'attività ha delle spese, ha delle spese, ha delle situazioni estremamente complesse che devono essere gestite in un ambito che non è quello del ristoro di 600 euro in tre mesi durante l'ultimo anno. Noi come associazione non possiamo fare altro che mettere a disposizione quelli che sono gli strumenti attualmente presenti e accessibili per i cittadini, le partite IVA, le piccole imprese e che hanno la necessità di acquisire questi dati. Sarà un'ecatombe se a questa problematicità la politica non interverrà in modo significativo.